I vaccinati di Italia, estenuati, sono incazzatissimi e stanno sempre più nutrendosi dira nei confronti delle provocazioni dei no-vax. Alla domanda quale è il suo sentimento nei confronti delle persone che si sono barra non si sono vaccinate, il 49% dei vaccinati afferma di provare rabbia verso i non vaccinati, cioè quasi il quintuplo di quanti hanno lo stesso sentimento in campo avverso, 11%, recita l'articolatissimo papello SWG. Che continua, il 12% prova compassione per i no-vax, all'inverso è l 8%, mentre il 72% dei non vaccinati si dice di fatto indifferente nel merito di chi invece ha scelto di farsi la puntura contro il coronavirus, solo il 33% dei sidax si dice invece indifferente. Davanti ad un ulteriore irrigidimento delle circostanze con il nuovo Super Green Pass, la situazione potrebbe prendere una china preoccupante che occorre disinnescare quanto prima evitando uno scontro sociale, aggiunge Roberto Arditti. Arditti, da cronista politico, si abbandona ad un sottotesto, sarebbero i SIVAX arrabbiati ad aver influenzato, attraverso l'ambiguità dei partiti, l'esito delle elezioni dei sindaci di ottobre. E probabilmente è vero. Ma anche il profilo psicologico è chiaro. Siamo passati dalle dispute in famiglia e dalle chiacchiere da bar nell'atmosfera sostanzialmente serena di settembre via via, con potente gradualità al distacco, e all'urticanza, e al compatimento, infine alla rabbia inesorabile o ai limiti dello scontro fisico. Un sentiment, quello del popolo dei vaccinati, che declina sempre più contro l'intolleranza conclamata dei No Green Pass, i quali, da 19 settimane di seguito violano le leggi, irrigidiscono i rapporti con i commercianti, le imprese, gli ospedali, intere città vengono minacciate da una loro tenace avversione verso il reale, spesso cavalcata dai violenti e molto spesso idiota. Grazie. Grazie.